Sul problema dei collegamenti ferroviani in Friuli Venezia Giulia, il problema è stato sollevato e adeguatamente descritto con un'interrogazione che ha presentato a luglio il Ministero dei Trasporti e successivamente la Commissione dei Trasporti l'On. Serena Pellegrino di Sinistra Ecologia e Libertà. L'interrogazione, ricordo una nota, è stata sottoscritta da una trentina di deputati. Vorremmo sapere, prosegue Pellegrino, quali iniziative sono previste per ottenere la revisione degli orari di collegamento tra Monfalcone e Venezia Mestre e per ottenere un regime più agevole nelle coincidenze dei collegamenti tra le linee dei capoluoghi di provincia del Friuli Venezia Giulia e del resto d'Italia. Abbiamo evidenziato esplicitamente la necessità di riqualificare i fondamentali nord intermodali di Monfalcone e Cervignano e le loro stazioni ferroviarie e promuovere un tavolo di confronto contro l'Italia e la regione. Andare in treno a Mestre è un problema, viaggiare in direzione dei capitali a noi vicini è difficile se non impossibile, vedi collegamenti con Ljubljana.